Ciao a tutti, buona giornata e benvenuti a questo 42esimo video di saluti agli amici del canale. Cominciamo subito perché come sempre siete tanti. Super Kate 04 che mi dice Ciao Fabio, mi potresti salutare nel prossimo video? E saluta anche la mia classe alla seconda F e la mia prof di musica Rita Stracuzzi che mi dice che in classe impariamo guardando anche i tuoi video. Grazie infinite a te e alla tua prof e alla tua classe ovviamente. Chiara Falcone, Roberto Aicardi, Mattia Piluso che mi dice Puoi salutare me, la mia classe è la prima F di Corigliano Calabro? Ciao a tutti, ho 11 anni e sono pianoforte. Poi SFT TNT Pro Gaming, Giacomo Condemi, Ludovico Cimico. Ciao Fabio, mi puoi salutare? Certo, ciao. Poi Ipantellas Forever, ciao anche a te. Joel Villao che mi dice Ciao, ti saluto, ti seguo da tanto, da quando avevi 20.000 iscritti. Potresti salutare me e la prima C, Carlo Urbani. Ciao a tutti ragazzi. Francesco Contorno, Mohamed Ritesh, Darkstrike, Frenzy, Noe Martinez, Ciasc99, Alessandro Panella, Opaco Silver, Isabella Donà, Luvi Do7, Niccolò Didu, Luca Rossi, Gregorio Di Domenico, Clarissa Greco, Hoja Berezza, che mi dici, mi saluti al prossimo video, mi chiamo Benedetta. Ah, quindi un saluto a Benedetta del canale Ola Berezza. Giada Gamer, Semmi, Luca Siniscalchi, Giulia Prosperi, Chiara Cossu, Ludovicani, Ludoviccanic, Tommaso Maffia, Tullio Craft, poi non mi hai salutato mio padre, Nello, Marianna, mia sorella, mia zia Lina, mio zio Enrico e mio nonno Tullio. Quindi scusami se l'altra volta me l'ho dimenticato, ho rimediato oggi. Antonix07, Michele Villani, che mi dice Se mi saluti fra dieci giorni faccio il compleanno, ciao Michele, tanti tanti cari auguri di buon compleanno, un po' in anticipo ma oramai ci siamo. Serial Kinder, Ludovico Tortella, Ludovica Tortella chiedo scusa, poi Matteo Lucconi, Nico che suona l'arpa, Giacomo Carella, Sofia Vittoria Official, Hook Game, Teo 95, Lele Gatto, Sasa 600, Ludovica Tortella che avevo già salutato prima, però si vede che l'avevo riscritto, Paola Clemente, Fratelli Sharks, Federico Sciacchitano, Eleonora Bonissoni, Nicole del Canale, Giuseppe Lofaro, Vittoria Tipaldi, Davide Parasca, Dani TV, Martina Messina, la scuola secondaria Leonardo da Vinci, ciao a tutti ragazzi, Andrea Missiato, Antonella del Canale, Queen che suona al sax, ciao Antonella, Rafix, Alessio Ippolito, Simone Babbo Musica e Gaming, The Big Boss Channel, Vincenzo Spera, poi Vincenzo del Canale, Peppe Guardiola, Laura, Elisa Laura Ferracin, Felicia De Simone, Chico Rossi, Gabriele Catalano, Vincenzo Raggio, Giovanni Giannini, Molino Zola Molino Zola, Jovi Game, Nicola Grimaldi, Gianluca Di Marzo, Tullio Craft, che mi dice, non mi hai salutato? Chiamami Tullio, poi mio padre e mia zia, ah ecco lui prima, quindi mio padre e mia zia, mio zio Enrico, mio nonno Tullio, mia soella Marianna, Rosetta e Funzino, ok Tullio Craft, stavolta ho davvero rimediato alla mia dimenticanza di domenica scorsa, Arsh Kang, saluti me e mio prof che si chiama Italo Froldi, ciao al prof, Tim Rossi, Vittoria Schiavi, Umberto Barraco, Dark Dragon, Dark Dragon 97, puoi salutare me e la mia classe terza B di Napoli, Casoria, e anche la mia prof di musica che ci fa suonare con i video, grazie sei un grande testimo perché mi dai una mano anche a noi in musica, grazie di cuore a te, alla tua professoressa e un caro saluto a tutta la tua classe. Poi Lalla Collins, ciao Fabio, siamo tuoi fans, potresti salutare me e la mia amica Inion Ansneacta e il mio amico Roberto Vecchi, certo, ciao a tutti, Giulia Babbini, Gannex Straux, Master Show Playbox, Gabri M. The Games, Alberto Corolli, Samuel Lammar, Domenico Gabriele, Pinuccia Quilina, saluti mia sorella Sofia e mio fratello Mattia Bosis, scusate ma sono sveglio da un minuto, quindi leggere, ancora non ho preso il caffè, solita storia, io la domenica mattina mi sveglio e voglio salutare tutti, però qualche volta sono in condizioni un po' disastrate, poi chiedo scusa quindi sono un po' lento a leggere, Ludovico Chiarelli, Luis Diop, Mary Love, Valerio Bonasia, Martina Zonfarelli, Tommaso De Cicco, Angus89 a Cocco, potresti salutare me e tutti i ragazzi della terza G, Bacci Ridolfi, ciao a tutti ragazzi, Jacopo, Francesco Guarlotti, Michi Leone, DaviTV04, Simone Albano, Power Dexter, Lisa Brocchi, Dennis Iora, Mina Glai, Ilaria Martelli, Cucu, stranissimo nome, Cucu e basta, ok ciao Cucu, Alessia Aguilar, Rebecca, ciao Fabio mi chiamo Rebecca, mi puoi salutare la prima C di Campodarsego, ciao a tutti ragazzi, Sofia Anastasi, Speedy99, Starling04, Mario, Roby Ale, che mi dice saluti, la mia classe è la seconda F del Lazio, ciao, 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 e poi mi dice con la nostra professoressa abbiamo fatto Sofia di Alvaro Soler, grazie, sono molto contento, è una canzone davvero divertente a suonare, Samuele Lupo Timini, Mirko Brunelli, Gabri Television, Romario Channel TV, Erika Foresi, Gioia Infantino, Younes del canale FAPIJTV, potresti salutare me la terza A di Montefelcino, ciao a tutti ragazzi, Stefano Parisato, ciao salutami anche la prossima settimana, e fammi gli auguri perché il 23 marzo faccio 16 anni, quindi tanti tanti cari auguri a Stefano Parisato, Lorenzo, che mi dice ciao mi saluti, mi chiamo Lorenzo, suono la chitarra, e saluta anche la scuola media di Montefelcino, ciao a tutti ragazzi, Livia Kono, Nadir Hekaiki, ciao Nadir, Mattia Scilletta, Giulia Zen, Vell85, Simone Musso, Henry Gamer Italia, Lucat L3O, oh mamma mia, Lucat L3O, giusto, Marco Lezzi, Johnny Leo, Huertas 2.0, Francesca Acab, no, forse Marco Era Jezzi, non so, maiuscoli, forse Marco Jezzi, scusami Marco se ho letto male, Francesca Acab, Alessia Aceto, Dalila 567, Lorenzo Arienti, che mi dice, nella scorsa settimana agli iscritti hai salutato me un mio amico, ma l'hai letto male, hai detto Elia Quartaro invece di Elia Quattraro, potresti risalutarlo, certo Lorenzo, scusami, quindi un grande saluto e una buona domenica ad Elia Quattraro, poi XXSpimr XX, potresti salutare la mia classe terza C e il mio professore della valle, ciao a tutti, la magia delle stelle, Michele 03, Annalisa Barra, Petko Pet, mi saluti e anche la classe seconda D di Arcole, ciao a tutti ragazzi, Nico Giacco 05, The Jigen is Love e i suoi amici, Laele, It's Fede, mi puoi salutare, mi chiamo Valentina Sciarini e sto imparando a suonare la chitarra, brava Valentina, a presto, un saluto, Power Dexter, Sofia Herrera, Francesco Quero, mi saluti al prossimo video, mi chiamo, mi chiamo Sofia, sei un grande, ti ammiro tanto e usiamo le tue canzoni in classe, grazie infinite, Tommy Gea, Ciao Fabio, potresti salutare me, la mia classe, la terza B della scuola Silos di Bitonto, ciao a tutti ragazzi, Antomic Zevil, Nunziante delle Donne, Sabrina Amduni, Pogos72, Emanuela Giuliano, Monica Procaccio, Mario Pio Cammarano, Damiano Arvizzigno, Fabi's Channel, Mario Pacello, Andrea Esposito, Giulia Michelucci, Tommaso Solaro, Luca Siniscalchi, Matteo Nova, Alessandro Pinto, Anita Corsaro, Glotting01, Carlo De Pandi, Paulin, ciao potresti salutare me, mio professore Fusella, ciao a prof, Jack Piazza, Ludovica Tortella, Riccardo Menegaldo, Ausch, DJ, ah no, Agus, DJ Agusci, sì, Agus, DJ Agusci, saluti anche mio fratello che si chiama Ardian, ciao Ardian, Federico Marchetti, Fabio, mi può salutare domenica a me e alla mia prof di musica, noi facciamo lezione ascoltandoti, potresti salutare la mia classe alla seconda dell'istituto comprensivo di Ficarazzi di Palermo, ciao ciao a tutti ragazzi, poi Sara Iderdar, Marco Rea04, Andrea Tirani, Vittoria Passione, Sofia Herrera, Davide Di Gioia, Enricchi Filippo, Riccardo Crea, Massi Romagno, Saverio Calvaruso, ciao Fabio, seguiamo i tuoi video tutti i giorni dall'ufficio Almaviva di Bologna, saluterò, che bello, saluteresti me e i miei colleghi, ci chiamiamo Saverio, Vincenzo, Marilena, Laura, Antonio, Lello, Detto al Baffone, Mino, Francesco, Bruno, Stefano, Marco, Francesca e il Portinaio, se trovi il tempo faresti in flauto la canzone A mano a mano, promesso, adoro quella canzone, sia nella versione di Cocciante che nella versione di Rino Gaetano, la versione di Rino Gaetano per me è sconvolgente e quindi vi farò quella, promesso. Angela Angelino, Kevin Laporta, Frank 04, Lodovica Tortella, Carlo Heinz, Lux 19 e Alex 16, Daniele Davide Passiatore che mi dice ciao a dal canale Passiatore c'è Cristian che mi dice mi puoi salutare, ciao Cristian, grazie a te siamo riusciti a rimanere la classe, un saluto dalla scuola Falcone Borsellino da parte della terza B, un caro saluto a voi tutti. Matteo Polverino, Pelle TTV, N1 Pass, tua nonna. Ciao Fabio, nel tuo prossimo video, mi saluti, mi chiamo Andrea e puoi salutare la prima B di Camporgiano, Camporgiano, ciao a tutti ragazzi, Alex Gaming, Spiderman, Giulia Brucculeri, Sebastiano Rivara, mi puoi salutare nel prossimo video, sono flauto a scuola e puoi salutare la classe prima C della scuola Giordani di Parma. Oh ragazzi, la mia R Moscia la dice lunga, io sono vissuto oltre 30 anni a Parma, ho fatto le medie, le mentali, ho fatto tutte le mie scuole a Parma e quindi un grande abbraccio a voi tutti, se fate un saggio in fine anno, fatemelo sapere, vengo ad applaudirvi, anche perché mio papà vive a Parma, quindi io spesso sono a Parma, ok? Fatemelo sapere. Fabio Cortecchia, Agnese Raggio, Alessandro Rolfi, Giulia del canale, Chico Rossi, Francesca Ragazzini, Samuele Angelico, Manuel Bau, Annalisa Barra, Marta del canale, vostro caro Clickbait, Miriam Assenza, Alessio Eppolito, Gabriele Maselli, Luca Viola, Uroa Sala, Francesco Bonavolonta. Strano, non ci dovrebbe essere l'accento finale, non dovrebbe essere Bonavolonta, non lo so, sul tuo canale, cioè io visto che quando mi hai scritto, c'è scritto Francesco Bonavolonta, quindi buona domenica, fammi sapere se l'ho letto bene, poi Abba ed l'ultimo canale About Giulia. Quindi ragazzi, abbiamo salutato tutti, buona domenica a voi e alle vostre famiglie, se volete essere salutati domenica prossima non dovete far altro che scriverlo sotto questo video. Ciao a tutti!